Ciao ragazzi, proviamo un po' a spiegare, o meglio a ripetere, le operazioni che abbiamo imparato a fare con le frazioni. Quindi abbiamo imparato addizione e sottrazione, quindi facciamo degli esercizi, facciamo degli esempi su quello che abbiamo fatto. Consideriamo due frazioni, esempio 3 quarti più 2 terzi. Come facciamo noi a sommare due frazioni che hanno diverso denominatore? Calcoliamo il minimo comune multiplo di questi due denominatori, quindi di 4 e di 3. Per prima cosa facciamo la nostra scomposizione, quindi dovremmo fare così, prendiamo il primo denominatore e facciamo la scomposizione. Quindi il numero 4 lo dividiamo per 2, quindi viene 2, ancora si può dividere per 2, quindi 1. Quindi il numero 4 è 2 alla seconda. Il numero 3 già è un numero primo, già si scompone da solo, perché si fa 3 diviso 3 e quindi risulta essere il numero 3. Chi è il minimo comune multiplo allora di questo di 4 e di 3? Il minimo comune multiplo di 4 e 3 è praticamente il prodotto dei fattori comuni e non comuni presi una sola volta con l'esponente maggiore, nel nostro caso 2 alla seconda per 3, quindi proprio 12. Come si procede? Si procede facendo 12 diviso il primo denominatore, quindi 4, facciamo 12 diviso 4 e 3. 3 per 3, 9 e scriviamo 9. Più 12 diviso 3, 4. 4 per 2, 8. Il risultato è 9 più 8, 17, dodicesimi. Questo è il risultato della nostra, dell'addizione tra due frazioni. Che succede invece se ci troviamo in questa condizione? 3 quarti meno 2 terzi? Praticamente la soluzione, la risoluzione è sempre la stessa. Dobbiamo, l'unica differenza in questo caso, vedete, è un segno meno e un segno più. Il procedimento è lo stesso, dobbiamo sempre determinare il minimo comune multiplo tra i due denominatori, in questo caso, e quindi già l'abbiamo fatto prima ed è 12. Poi si procede allo stesso modo, 12 diviso 4 è 3, 3 per 3, 9. Poi abbiamo il segno meno, mettiamo il segno meno, 12 diviso 3 è 4, 4 per 2 è 8. Il risultato di questa sottrazione è un dodicesimo. Quindi, quando due frazioni hanno denominatore diverso, per poter svolgere l'operazione di addizione o di sottrazione, bisogna fare il calcolo del minimo comune multiplo, come abbiamo fatto negli esercizi o nelle esercitazioni precedenti. Cancelliamo un attimo questi esercizi qui, questi esempi, e facciamo l'esempio di un numero naturale più una frazione. In questo caso, noi dobbiamo tener conto che sotto un numero naturale, quindi il denominatore di un numero naturale, c'è sempre il numero 1, quindi noi stiamo prendendo 1 più 2 terzi, sotto un numero naturale, sia esso 1, 2, 3, 4 e così via, c'è sempre il denominatore uguale a 1. In questo caso, il minimo comune multiplo non è altro che il numero, diciamo, più grande, quindi 3. Non facciamo alcuna scomposizione in questo caso. Come si procede? Si procede così. Si prende il minimo comune multiplo, si moltiplica direttamente per il numero intero, quindi il numero naturale, quindi 1. Si fa 3 per 1, 3, più 3 diviso 3 è 1, per 2, 2. Quindi il risultato è 5 terzi. La stessa cosa se noi facciamo 1 meno 2 terzi. Non c'è alcuna differenza. Il minimo comune multiplo è sempre il 3. Si fa sempre 3 per 1, 3, meno 2, quindi uguale a 1 terzo. Questo non cambia se qui mettiamo il numero 2, il numero 3, il numero 4. Il procedimento è sempre lo stesso. Sotto il numero 2 consideriamo sempre 1, ma per convenzione non si mette. Quindi il minimo comune multiplo è sempre 3. 3 per 2, questa volta si fa, è 6, meno 3 diviso 3, 1, 1 per 2, 2. Quindi il risultato è 4 terzi. Questo procedimento si applica anche quando siamo nella condizione di due o più frazioni, nel senso che se abbiamo 1 mezzo più 1 ottavo più 3, vogliamo sapere qual è la somma di queste tre frazioni. Quindi prima di tutto facciamo la nostra scomposizione. Allora 2 è il numero 2, quindi si scompone con il 2. 8, se facciamo la scomposizione come abbiamo imparato, 8 facendo tutta la scomposizione. Poi pian piano impareremo a capire quali sono i fattori che scompongono un numero. Però se ve lo ricordate, 8 è uguale a 2 alla terza. E qui abbiamo sempre 1. Qual è il minimo comune multiplo di questi due numeri, di 2 e di 8, visto che il denominatore qui è 1, quindi non ci interessa, dobbiamo prendere i fattori comuni e non comuni con il massimo esponente. Quindi in questo caso abbiamo 2 e 2 alla terza, quindi il nostro minimo comune multiplo è 2 alla terza e quindi 8. Come procediamo? Procediamo in questo modo. 8 diviso 2 è 4. 4 per 1 è 4. più 8 diviso 8 è 1. 1 per 1 è 1. Più, in questo caso facciamo 8 per 3, 24. Quindi scriveremo 24 più 4 è 28, più 1 è 29 ottavi. Questo è il risultato della nostra addizione. La stessa cosa avviene con la sottrazione, e quindi diciamo che il discorso è identico. Cosa succede se invece abbiamo una frazione di questo tipo? Facciamo un esempio. 3 quinti, sto prendendo degli esempi sul vostro libro, più 28 ventesimi. Come facciamo a fare questa somma? Allora, dobbiamo scomporre sempre i due denominatori per trovare il minimo comune multiplo. Allora, 5 è dato da 5. 20, se facciamo una scomposizione, verrà fuori che è uguale a 2 alla seconda per 5. Come ho fatto? Ho fatto così. 20, 20 diviso 2, viene 10, 10 diviso 2, 5, 5 è uguale a 1. Quindi, questo lo riporto qui, e quindi ottengo che 20 è uguale a 2 alla seconda per 5. Chi è il minimo comune multiplo tra 5 e 20? Devo calcolare, quindi, il prodotto, devo fare il prodotto di fattori comuni e non comuni, presi una sola volta, con l'esponente maggiore. Quindi, in questo caso, è 20. Da notare che, quando i denominatori sono uno multiplo dell'altro, si prende il più grande. Quindi, in questo caso, 20. Come si procede? Si procede così. 20 diviso 5, 4, 3 per 4, 12, più, perché abbiamo più, 20 diviso 20, è 1, per 28, è 28. Il risultato è 40 ventesimi. Questa non è una frazione ridotta ai minimi termini, quindi noi possiamo trovare un numero che divide sia il numeratore sia il denominatore. Quindi, prendiamo questa frazione, 40 ventesimi. 40 ventesimi. C'è un numero che divide sia il numeratore che il denominatore, il numeratore sia il numeratore. Sì, io posso fare diviso 10, quindi ottengo 4 mezzi, poi diviso 2, quindi 1, 4, scusate, 2. Qual è il risultato di questa frazione? 2. Posso anche fare un'altra cosa. Io vedo che 40 e 20 sono uno il doppio dell'altro, quindi che faccio? Faccio diviso 20, 20 diviso 20 è 1, 40 diviso 20 è 2, ottengo sempre 2. Posso anche fare un'altra operazione, quindi 40 diviso 20, posso fare diviso 2, qui è 20 diviso 2 e qui è 10, poi posso continuare facendo diviso 5, qua è 2, diviso 5, qua è 4, e poi divido ancora per 2, qua è 1 e qua è 2. Il risultato è sempre lo stesso, come vedete. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che noi possiamo operare in diversi modi per semplificare una frazione, ma il risultato di quella frazione è sempre lo stesso. Questo perché quando facciamo le addizioni, le sottrazioni, quindi viene fuori un risultato che non è una vera e propria frazione, ridotta ai minimi termini, ma è una frazione cosiddetta apparente, dovremmo essere bravi a portare, quindi ai minimi termini, la frazione stessa. Vi spiego l'ultimo caso, almeno per oggi, sulle operazioni che faremo poi con le frazioni. Allora, sto apprendendo l'esercizio pagina 461, numero 68. L'esercizio è questo. È una piccola espressione, dice che dobbiamo fare la somma di questi numeri, 3 più 5 sesti, più 2 terzi, più 1 terzo. Allora, come uguale, dobbiamo trovare la soluzione. Come facciamo? Se ricordate, sicuramente lo ricordate, abbiamo imparato nelle espressioni che la prima cosa che si svolge è tutto ciò che è all'interno delle parentesi tonde. In questo caso abbiamo solo la direzione, quindi svolgeremo prima questa operazione e poi questa operazione, scusatemi, e poi svolgeremo le operazioni che verranno successivamente. Allora, 3 più 5 sesti, come facciamo? Come operiamo? Operiamo in questo modo. Apriamo la parentesi tonda. Il minimo comune multiplo, qui chi è? Abbiamo detto, abbiamo spiegato poco, anzi, il minimo comune multiplo tra il 6 e l'1 che è qui sotto è il 6 e quindi mettiamo il 6 e procediamo come abbiamo imparato in precedenza. Quindi 6 diviso 1, che non lo facciamo, ma comunque 6, per 3 è 18. Quindi abbiamo 18 più 6 diviso 6 è 1, 1 per 5 è 5. E scriviamo così. Chiudiamo la parentesi, qui abbiamo il segno più, e mettiamo più. Lavoriamo su questo, apriamo la parentesi. due frazioni che hanno lo stesso denominatore avranno come somma una frazione con denominatore che è lo stesso e come somma la somma dei due numeratori. Ok. Se fosse stato denominatore diverso avremmo fatto il minimo comune multiplo. Continuiamo. 18 più 5 è 23. Quindi possiamo già togliere le parentesi perché abbiamo definito il risultato di questa operazione. quindi 23 sesti più 2 più 1 è 3 diviso 3. Ecco che qui ci troviamo in una frazione apparente. Possiamo semplificare questa frazione facendo 3 diviso 3 è 1. 3 diviso 3 è 1. Quindi che cosa succede? Che la nostra frazione diventa 23 o meglio la nostra espressione continua scrivendo così 23 sesti più 1. Come procediamo in questo caso? Procediamo così. 23 sesti più 1 linea di frazione. Qual è il minimo comune multiplo tra 6 e 1 che è qui sotto? È sempre il numero 6. Come procediamo? 6 diviso 6 è 1 più 23 scusate 6 diviso 6 è 1 per 23 è 23 più 6 per 1 più 6 il risultato della nostra espressione quindi di questa diciamo piccola espressione o meglio addizione tra frazioni è 29 sesti ed è finita essendo due numeri non divisibili tra di loro oppure possiamo dire che non avendo dei numeri che dividono numeratore e denominatore diciamo che questa è la frazione risultata da questa operazione spero adesso di avervi fatto un quadro completo almeno sulle addizioni e sottrazioni delle frazioni poi faremo lo stesso per divisioni e moltiplicazioni